Buongiorno, io sto qui, se mi ricordo mi sposterò in tutti i posti perché in teoria dovrebbe essere una presentazione per tutte le lettere dello SMART. La presentazione andrà avanti da solo ogni 20 secondi? Sì, cerco di adeguarmici. Allora, come Terrae abbiamo dato il secondo nome della nostra associazione, Officina della Sostenibilità, perché Sostenibilità è il caposaldo anche di tutte le lettere che seguiranno SMART. Secondo noi la sostenibilità è fondamentale perché è quella che ci permette di dare un futuro anche ai nostri figli. Questo qui è una vignetta che ho trovato recentemente sull'evoluzione della mobilità. E appunto per non cadere nell'ultima fase, ovvero l'omino che cammina e che non ha altre risorse, vorremmo proporre di sviluppare a Pordenone una mobilità pubblica collettiva oppure individuale lenta con delle reti molto ben fruibili e molto ben individuabili, sia dal punto di vista ciclabile sia dal punto di vista del trasporto collettivo. Inoltre, come accessibilità ad esempio, vorremmo che ci fosse una possibilità anche di sviluppare gli orti sociali, perché sono una buonissima idea, non soltanto per avere un pomodoro in più, ma anche per poter socializzare. Come sviluppo resiliente, come resilienza, ho trovato questo grafico, che rappresenta anche un po' il grafico che avevamo costruito tempo fa per la nostra sostenibilità. Ci sono un sacco di componenti che vanno a comporre la resilienza. Una città, per essere resiliente, per poter sopportare anche lo stress alla quale va incontro, e alla quale andremo incontro nei prossimi anni, dovrà essere resiliente, ovvero non cercare di ripristinare la situazione dalla quale è venuta, ma cercare di avere delle idee innovative, magari anche copiandole, come ha detto Daniela prima di me, dagli altri, in modo da poter trovare delle soluzioni che vanno bene a se stessa, con innovazione e con ritorno anche alle tradizioni, magari modernizzandole. Un suggerimento è quello di partecipare con un'iniziativa del Comune al premio dei Comuni a 5 Stelle, che oltre ad essere dei buoni esempi per poter copiare delle idee, danno anche un premio ai comuni che ogni anno partecipano per proporre la loro idea di sviluppo sostenibile, e qui sotto ho messo un elenco di siti oppure di indirizzi ai quali spesso noi facciamo riferimento per trovare appunto sempre delle buone idee, perché essere intelligenti non significa soltanto avere delle buone idee, ma anche saperle copiare da chi le ha già fatte e magari adattandole alla propria esperienza. Grazie. Grazie. Grazie.